Su Lecchi Gomez con Isabella, una partita difficile, debutto europeo per il Pontina, tu che hai tanta esperienza, che partita hai visto? Allora, dal punto di vista di gruppo ho visto una partita molto bella, dall'inizio fino alla fine, si siamo impegnati tutti e due squadri, è stato un bel spettacolo, una bella cosa, al palazzato di Pontina è stata una congenza, c'è i tifosi, tutti amici, è stata una bella serata oggi la verità. E niente, speriamo, cioè domani, continuare con questo percorso per portare alla fine il nostro obiettivo. Cosa puoi consigliare alle giocatrici, magari un po' più giovani, per la partita di domani? Allora, dal punto di vista, diciamo, dobbiamo spingere, dobbiamo spingere, noi possiamo molare, dobbiamo essere mentalmente, dobbiamo essere tutti concentrati dalla prima all'ultima, quella che sta in campo, quella che è fuori deve essere pronta per un possibile cambio, cioè dobbiamo andare al massimo, un minuto, 30 secondi, ci dobbiamo impegnare, se no non riusciremo, questo è. Siamo una squadra, quindi una per tutta, tutti per uno, quindi fino alla fine, non si muola. Quando vedremo Isabella in campo? Allora, io si è iniziata comunque un percorso durante il 15, questo anno sta continuando e mi auguro che sarà come la mamma. Grazie. Grazie a voi. Ciao.